per la giornata mondiale della marijuana riporteremo una discreta quantità in Messico come segno di solidarietà e riconoscenza per tutta la droga che i fratelli messicali ci hanno dato nei secoli quando abbiamo detto facciamo di tutto per non attirare l'attenzione che cazzo ti hai sfuggito a voi due? abbiamo lavorato sulla psicologia inversa ma vestendo un carlino te lo chitti? pensi che ho pure a spogliarmi il minuto davanti a te ma cosa sono io con paura se ti spogli? non ho problemi di metabolismo a me non fa male le palle allora e io ho l'emorroidi allora si sentiranno strette la dei fratelli hai presente quante roba più faccia in quel bagagliaio? altro che carlino non so esteticamente corretto esteticamente corretto quella sta un passo dal suicidio ma cristo ma gliela dovrei dare a un carlino la possibilità di riscatto sociale e non gliela dare una balena che cazzo gli animalista sei? questo è droga no? si sono esemplari incredibili dicono che Mosè ne avesse fatto uso quando salì sul sinai quindi era praticamente strafatto quando Dio gli diedi dieci comandamenti un attacco di panico mi sta prendendo mi servono i documenti di questa casa l'atto di proprietà e tutte quelle altre carte ma quindi lei è tipo gay? no io non sono gay però le piacciono gli uomini e più le donne a dire il vero come le donne? chi ce li strano? lesbica giusto? eh sì assolutamente no eh no scusami che cazzo sei? sono una transessuale e bisessuale eh 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 ma in che senso? oggi non posso perdere capisci? se mi ripresti faccio quello che vuoi non vengo più da me sei patente? e dammi quel cazzo di soldi dammi subito perchè ti giuro che come ti ho fatto ti hai distrutto? ma fanculo ma quando te ne sei andato mia madre ha fatto avanti e indietro per 15 anni da una clinica per disintossicarsi dalle slot machine sono stato un genitore di merda non c'è niente di più vero sei finito in quella casa famiglia per colpa nostra ma mi perdonerai una buona moto? sarà sempre mia la colpa savi davvero che fossi tornato per te? ti voglio bene però per rimediare vuoi davvero farmi un buon caffè? e mi piacerebbe sì allora non giudicare le mie scelte adesso mettiamo il primo e vediamo come va respira vado allora? quindi in questo bar gay? ah! perfetto! fatto il primo fatto il primo